A ribartarla noi ci crediamo, nel campionato abbiamo vinto 3-1, quindi sappiamo che possiamo fare i gol. È una squadra forte che in caso o non in caso sappiamo che possiamo vincere la partita. Poi oggi non analizzeremo domani la partita, però abbiamo avuto le nostre occasioni, siamo stati un po' sfortunati, secondo me non abbiamo meritato la scampita. Tatticamente come vi ha messo in difficoltà questo Napoli e soprattutto nel primo tempo cosa non siete riusciti a fare come volevate? Non è difficile, si sono messi 10 dietro la linea della palla, è palese, loro sono venuti qua, si sono difesi, hanno fatto bene, complimenti a loro. E noi magari dovevamo sfruttare meglio qualche occasione o quando riuscivamo ad arrivare vicino all'area, che non era facile oggi. Poi anche un po' di sfortuna.